Il nostro percorso giunge quasi al termine, siamo alla quinta tappa, che cosa abbiamo Francesco nella quinta tappa? Abbiamo dei salumi, formaggio, pizza reintorta e pizze fritte. La pizza reintorta che cos'è? La pizza fatta con la sfoglia, con la salsiccia dentro, salsiccia, verdura, un arrotolato di... E la pizza fritta? La pizza fritta è farina, fritta, olio e mettiamo il sale e lo zucchero. Questo bel gruppetto sta gustando la quinta tappa, da dove venite? Da Roma e dall'Aquila. L'Aquila. Proprio per gustare queste specialità a Girgenti? Sì, sì. Noi veniamo tutti l'anni e è sempre più bello, ogni anno è sempre più bello. È sempre più buone le cose. E' meravigliosa, è ospitale, è un posto magnifico. Quindi voi non avete proprio nessuna discendenza, nessun parente? No, noi abbiamo, io personalmente noi abbiamo una casa che affittiamo tutto l'anno e ci veniamo tutti gli anni, tutto l'anno veniamo qua. Il sabato e il domenico ci rilasciamo, perché da Roma, capisci bene, tutta la settimana, poi il venerdì, sabato e il domenico siamo qui a Val... Aria pulita. Aria pulita, pulita, mangia buono e la compagnia poi è stupenda, quindi va bene così, meglio è così. Siamo proprio alla cottura delle pizze fritte. Adesso Rosalba ci dice come sono fatte gli ingredienti e la cottura. Acqua, farina, lievito di birra, un pizzico di sale e basta. Si impastano, lievitano e poi vengono fritte. Quanto tempo vengono lievitate? Beh, a seconda se è caldo fanno, con un'oretta, un'oretta e mezza lievitano, dopodiché si friggono.